Impara il russo, russo per studenti di livello intermedio, frasi e parole di livello intermedio pronunciate in italiano e russo. Buon rientro a casa. Blagopalucinava puti damoi. Puoi confermare la data? Tu możesz подтверdить datu? Mi sto formando per diventare infermiere. C'è stato un cambiamento di opinione. Si tratta di un accordo reciproco. Sono qui per affari. Я здесь, по делу. Paguerò la cena. Я заплачу за ужин. Через 10 дней. Vuole guardare un film? Questa è mia figlia. Questa è mia figlia. Ha qualcosa altro? Hai qualcosa di più? Va bene. Bene. Da quanto tempo è qui? Smetta di incolpare gli altri. Perestante viniere. Vogliamo andare da qualche altra parte? Poi idemte v drugoe mesto. Chi sta parlando? Lui chiediamo di unirsi a noi? il giorno seguente sono in vacanza a nevicato la notte scorsa faccia con comodo non abbiamo figli ne terrò conto dove sei andato a scuola? in un'ora pagherò i biglietti non hanno nulla in comune in che campo lavori? vai da quella parte questo non funziona canto in un coro la cucina è ancora aperta? scusa per il ritardo ho il jet lag che cosa vuoi fare? è troppo tardi è troppo tardi suoni qualche strumento non dire sciocchette non dire sciocchette posso prendere in prestito la tua penna è troppo tardi un anno fa un anno fa sono smemorato per quanti giorni la mia macchina non si avvia maia macchina maia macchina non si avvia tornano subito maia macchina è stata una mia invenzione è stata una mia invenzione è stata una mia invenzione è stato 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 una mia invenzione allo stesso modo Puoi ripetere, per favore? Quante persone? Stai bene? Non è durato molto. Non ti preoccupare. Non fumo. Era davvero delizioso. Sono un po' fuori allenamento. Sta a te. Ben fatto. Sono all'ultimo anno. È lontana la banca. Lavoro in un negozio. Lavoro qui da nove anni. Lavoro qui da nove anni. È molto attraente. È molto attraente. È molto attraente. Lavoro qui. Lavoro qui. Sono ebreo. Io eudèi. Lei mi piace. Ona mi piace. Quando vorresti viaggiare? Quando vorresti viaggiare? È stato insolito. è stato insolito. Qual è il suo nome? Come? Come? Io zavut. Posso accompagnarti a casa a piedi? A che ora inizia la partita? Sei arrabbiato? Non dirlo neanche. Ti credo. Qual è il processo? In cui c'è il processo? Sendami un e-mail. Lavoro in una fabrica. Ho bisogno di un dottore. Si sta facendo tardi. Uże pozdno. Forse. Vosmogno. Il mio bagaglio è andato perso. Moi bagaglio è andato perso. Ci penserò. Io подумo. Chiama un'ambulanza. Perchè non vai? Perchè non vai? In dieci minuti. In dieci minuti. Через dieci minuti. Sono a casa. Io doma. Lo lasciato sul tavolo. La prossima settimana. La prossima settimana. Mi spiace. Non è necessario. Chia di sentire. Manca di creatività. Ne хватa di creatività. Fai come se fossi a casa tua. come vanno gli affari? ho bisogno di concentrarmi non mi interessa sono andato al supermercato prego hai superato l'esame di guida? ti sdall'examen po'vastinio? quanto sei alta? il film è stato deprimente film bel ugnetaioci ti piacerebbe guardare la tv? non vuoi vedere televisore? è giusto faccio volontariato ti porterò alla fermata dell'autobus l'auto è stata riparata non ho scelta da qui a lì da qui sto studiando storia ti trovo molto attraente è stato bello lavoro nell'editoria sono un uomo di buon gusto a che ora è successo? cosa fanno i tuoi genitori? cosa fanno i tuoi genitori? non ho scelto è up buon pomeriggio buon pomeriggio buon pomeriggio calma ti Sbrigati. Potoropis. È tutto ok? Все нормально? Che sorpresa! Какой сюрприз? Questo è il mio amico. Это мой друг. Ti auguro un buon viaggio. Жelаю тебе приятной поездки. È da molto tempo che non ci si vede. È tempo di andare. Vrema è inizia. È scomodo. È inizia. Mi piacerebbe no leggere una macchina. Che cos'è? Che cos'è? A che ora sei andato a dormire? È stato emozionante. È stato un malinteso. Sto facendo uno stagio. È lì. È lì. Cosa sta succedendo? Lui è molto sofisticato. È molto utoncente. Ho fame. È gola. È piovuto molto oggi. Сегодня шел сильный дождь. Voglio farti un regalo. Я хочу дать тебе подарок. Lo spero. Надеюсь. è stato un regalo. Lui è creativo. È un lavoro. Mio figlio studia informatica. Mio figlio studia informatica. Mio figlio studia informatica. Mio figlio studia informatica. Non mi da mai nulla. L'hai sentito? Che cosa hai pensato? Fa freddo fuori? Questa è la prima volta che sono qui. In tre settimane. È vicino? In quale università sei? Posso provarlo? Ho intenzione di andare a cena. Nessuno ci sta aiutando. Nessuno ci sta aiutando. Nessuno ci sta aiutando. Puoi spegnere la luce? Moshes выключить свет. Lavori domani. Tu lavoras morgeno? Sono un po in ritardo. Nessuno ci sta aiutando. Nessun problema. Nessuno ci sta aiutando. Nessuno ci sta aiutando. Di che colore è quella macchina? Nessuno ci sta aiutando. Nessuno ci sta aiutando. Io sono vedova. Io sono vedova. Come si prende? Come si prende? Come si prende? Le strade sono scivolose. Le strade sono scivolose. Che lavoro fa? Il tempo è bello. Pogoda è buona. È un ottimo studente. È un ottimo studente. Come stanno i tuoi genitori? Come stanno i tuoi genitori? Ho un sacco di cose da fare. Il mare è molto agitato. Il mare è molto agitato. Il mare è molto agitato. È stato divertente. È stato divertente. Questa è una tradizione. È stata tradizione. Cosa ha detto? Che ho detto? Non ne sono sicuro. Non ne sono sicuro. Non ne sono sicuro. La prossima volta. Non ne sono sicuro. 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 Buongiorno. Non ne sono sicuro. 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 Mi innamoro facilmente. Non ne sono sicuro. Sono arrivati ieri. pover Elli benci bello. Poi dimostrati? Non ci faccio? wished me? è la tua prima volta qui. tu qui qui... inizia ci вперv mica. avrei voluto avere io. ho bisogno di un appuntamento sono sicuro di un appuntamento è agressivo funziona un po un po un po